ciao sono alessia di alessia scrap and craft e casa organizzata se non vuoi perdere neanche uno dei miei video ti ricorda di cliccare la campanellina qui sotto in modo appunto da ricevere le notifiche appena esce qualcosa di nuovo ce ne sono spesso ne sto facendo molti e quindi seguimi ciao ciao buongiorno a tutti eccomi con la borsa a secchiello qui non si vede niente perché ha una inquadratura molto stretta ve la faccio vedere tra pochi secondi questo è il nuovo video per gli abbonati quindi presentazione del del progetto e poi continuiamo solo per gli abbonati il tutorial completo andiamo a vedere esattamente com'è la borsa ecco qui la borsa secchiello di cui vi parlavo eccola faccio vedere fondo io ho fatto queste decorazioni questa è o se si vede il manico si può usare qualsiasi tipo di manico o anche tracolla volendo ad esempio ho trovato anche in metallo però l'ho fatto l'uncinetto ed eccolo qua e adesso andiamo a vedere come è fatta questa borsa molto molto semplice il punto è il punto maglia vedete dentro si può mettere un sacchettino di organza o lo potete fare voi oppure lo potete trovare sia a fondo piatto che non per mettere la roba e ultimissima moda ho riunito secchiello e la borsa secchiello che è appunto ultima moda e l'uncinetto avete visto è un secchiello proprio vedete che è proprio un secchiello fatto proprio a secchio ultima moda quindi sulle sfilate si sono visti tantissimo questi secchielli di paglia di rafia di pelle di tutti i generi un po meno all'uncinetto ho pensato di farne uno totalmente all'uncinetto allora ha una base ha una base una base piatta chiaramente e un corpo e un manico fatto sempre all'uncinetto e agganciato con due moschettoni in questo caso ovali ma possono essere di qualunque tipo voi vogliate basta che siano un pochino grandi perché la borsa è fatta con un filato abbastanza spesso quindi rimane bella bella grossina insomma poi ho fatto queste decorazioni con frange e queste borchie in rilievo color argento manico potete scegliere questo che ho fatto io all'uncinetto oppure anche dei manici diversi ad esempio ho trovato simile a quello che ho fatto per l'uncinetto però ha fatto tutto in metallo molto bello anche questo va bene è un'alternativa ma allora dire che ho detto tutto passiamo al tutorial e invece per i non abbonati ci salutiamo qui e ci vediamo al prossimo video che sarà molto presto grazie a tutti